un cordiale saluto agli utenti di radio doppio zero come vedete questa volta la location è diversa rispetto al nostro studio di sempre ma adesso vi spieghiamo per quale motivo abbiamo qui analisa ciccio messere ciao e simone del vino e poi logicamente vedete accanto a me anna maria carella presidente regionale di fita puglia salve a tutti ok allora vi spieghiamo che cosa è successo qualche giorno fa in quel di pescara questi due simpatici ragazzotti hanno vissuto un'esperienza molto particolare per quanto riguarda il teatro per quanto riguarda il teatro amatoriale adesso ci faremo spiegare tutto che cosa è successo siamo stati segnalati per questo questa settimana residenziale dove abbiamo fatto sia dei workshop quindi dei laboratori sulla recitazione e abbiamo anche prodotto uno spettacolo che a fine settimana abbiamo rappresentato nel teatro della madonna del rosario a pescara e durante questa settimana di workshop abbiamo lavorato soprattutto sul testo di gabriel garcia marquez ovvero cronaca di una morte annunciata il regista ha voluto concentrarsi molto sulla figura della vittima e del carnefice due figure che nella società di oggigiorno sono molto presenti soprattutto se si parla di singolo e folla e in questo c'è la sancavata abbastanza bene perché abbiamo abbiamo prodotto siamo riusciti a produrre questo spettacolo che è andato anche abbastanza bene e il lavoro alla fine è stato ripagato comunque con da tanta 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 pazienza che abbiamo avuto tutti quanti nel nel metterci all'opera ovviamente oltre dal punto di vista emotivo ci ha lasciato tanto anche a livello umano perché comunque si è creato un gruppo con gli altri ragazzi che hanno avuto la nostra stessa fortuna di essere stati selezionati e la sfida è stata creare anche un'intesa perché tu reciti per la prima volta con con persone che comunque non conosci e siamo stati neanche diretti da un regista che non avevo mai visto e quindi la sfida di noi attori ma anche di lui regista è stata quello di creare un'intesa di gruppo per poi portare questo spettacolo montato registicamente in meno di una settimana allora loro due non ve l'hanno detto ma ve lo dico io loro in pratica sono stati selezionati non per la nostra città ma bensì sono stati selezionati per la puglia cioè da quello che ho capito voi eravate i più bravi in puglia da quello è vero Anna Maria adesso poi ci spieghi tu meglio meglio nel dettaglio allora non che analisa e simone siano i più bravi di puglia analisa e simone hanno partecipato negli scorsi anni a un evento che fita puglia promuove ormai da cinque edizioni il fita young la fita e la federazione è la federazione italiana teatro amatori le compagnie teatrali associate in appunto associazioni che producono e allestiscono spettacoli teatrali sono iscritti alla nostra federazione che conta in tutta italia oltre 1500 compagnie qua in siamo intorno alle 170 che vanno dall'inizio del gargano fino giù a santa maria di leuca chiaramente la funzione del teatro amatoriale è quella di portare il teatro nelle periferie soprattutto nei luoghi che non sono raggiunti dalla grande circuitazione vediamo qua bitonto è raggiunta dalla grande circuitazione perché c'è il teatro comunale ma ci sono alcuni posti soprattutto nella parte sud della nostra regione dove teatri non ce ne sono e tutto è affidato appunto alla buona volontà di queste compagnie che riescono a portare il teatro in comunità dove altrimenti non potrebbero soffrire appunto di questa meraviglia che è appunto assistere a spettacoli teatrali ritornando al fita young simone analisa hanno partecipato per due o tre edizioni al a questo a questa settimana sono tre giorni intensivi che solitamente facciamo nel nostro centro di formazione a santeramo e al teatro del saltimbanco e durante questi tre giorni il regista che segue il direttore artistico luigi facchino insieme a un'altra figura che viene scelta le varie volte a livello nazionale hanno fanno delle segnalazioni queste segnalazioni portano a questi ragazzi a frequentare a partecipare ai workshop e all'alta formazione che vita nazionale organizza durante l'anno e sarebbero appunto questa settimana dell'accademia e l'alta formazione che si tiene solitamente a reggio emilia che è seguita da daniele franci bene e loro hanno partecipato e sono stati segnalati quindi li abbiamo accompagnati a pescara ogni anno ormai sono tantissimi anni che fita regala questa opportunità ai suoi giovani e sono dei momenti stupendi magici perché ragazzi chiaramente stando tra di loro scatenano delle energie delle emozioni che davvero sono meravigliose. Allora Anna Maria poi dopo ti chiede ti farò altre domande logicamente su quello che il tuo ruolo io però vorrei chiedere soprattutto ai ragazzi quali sono le sensazioni che avete provato non tanto a stare in scena perché voi fate bene o male gli attori seppur siete degli amatori però solitamente le sensazioni che si provano sono sempre molto diverse l'uno dall'altro me ne spiegate un po' queste sensazioni? Questa è stata una settimana di grandissime emozioni sia perché ci hanno portato a lavorare con esse che per un attore è fondamentale e sia perché è stata una settimana ricca di confronti ed è stata la cosa che più penso mi abbia lasciato personalmente da questa settimana confrontarsi con ragazzi che non conosci che hanno la tua stessa passione che condividono a volte anche le tue stesse idee sul teatro e confrontarsi anche su quello che è il lavoro da farsi è una cosa straordinaria è una cosa davvero molto 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 importante penso per qualsiasi ragazzo che si approcci a questo mondo come ha detto simone abbiamo lavorato molto sulle emozioni e personalmente ho trovato un nuovo modo di ricercare all'interno di me stessa le emozioni da poi per poi riprodurre sul palco è stata una settimana di grande confronto perché tu guardavi gli altri e rivedevi negli altri la stessa passione per il teatro che abbiamo noi due che hanno tanti altri ragazzi ed era questa passione per il teatro che ci faceva brillare gli occhi e quindi non ci stancavamo mai di fare teatro anche la sera dopo che avevamo finito le lezioni facevamo ancora teatro per strada nel bar continuavamo a fare improvvisazioni quindi abbiamo vissuto il teatro h24 per una settimana ed è stato veramente emozionante quindi mi porterò tante emozioni tanta ricerca su me stessa ma anche sugli altri anna maria che cosa significa puntare su due giovani come loro per la fita la fita punta sui giovani a prescindere da loro sempre e io come presidente di vita puglia sono una di quelle regioni che da sempre ha puntato sui giovani perché credo che sono i giovani sono il futuro comunque e educare dei giovani all'espressività del teatro e rigore del teatro oggigiorno sia fondamentale per una formazione oltre che attoriale di arte ma anche personale dei giovani che si avvicinano al teatro hanno una marcia in più questo su questo non c'è dubbio alcuno perché sono abituati alla disciplina al rigore il teatro non è venire a giocare i sacrifici che questi ragazzi fanno io lo voglio dire una volta per tutte loro evitano di uscire con gli amici trascurano le varie fidanzatine per fare teatro e lì si tasta veramente l'interesse che il giovane non si fa distrarre da altro quindi secondo me la funzione del teatro è puntare sui giovani è per prima cosa a livello formativo della persona si formano persone migliori società migliore quindi quindi sempre sui giovani io ti ripeto sono una che ha sempre rigato e ha sempre visto oltre volevo aggiungere una cosa abbiamo parlato questi due giovani appartengono alla compagnia attore matto di bitonto e quindi un ringraziamento va anche alla loro maestra insegnante Cecilia Maggio che sempre con tanta attenzione segue questi ragazzi infatti molto spesso loro con i loro spettacoli vengono inserite inseriti in rassegne appunto prodotte dalla nostra federazione regionale avendo riscuotendo tantissimo successo l'ultima volta da team di teatro c'era una giuria molto qualificata è rimasta colpitissima dalla loro performance e quindi ad mai ora sempre nuovi successi è un in bocca al lupo per tutto questo da parte mia e della fita puglia si è sempre attori o si riesce a trovare la sliding doors fra l'essere attori e l'essere invece essere umani è una domanda abbastanza difficile sì c'è perché comunque l'attore sul palco porta sempre un qualcosa di se stesso non magari per quanto riguarda le emozioni cerca di rievocare non lo so quel ricordo che può aiutarlo in scena per riprodurre un determinato emozione un determinato momento e secondo me chi fa l'attore anche nella vita quotidiana non può fare a meno del teatro perché io parlo personalmente quando usciamo qualsiasi occasione buona per non lo so ripetere monologhi o citare parti di spettacolo cioè quindi vivendolo comunque sette giorni su sette teatro anche nella vita normale quotidiana c'è sempre uno spazio per cui si riproduce il teatro perché non ne possiamo fare a meno il pirandello diceva che c'è una maschera per la famiglia una per la società una per il lavoro e poi quando sei solo resti nessuno ed è un po quello che che fan tutti gli attori e i non anzi molto spesso ci si ritrova ad essere veri quando si è attori sul palco e ci si ritrova magari ad essere attori nella vita di ogni giorno e questo non vale solo per gli attori ma vale per qualsiasi professione ecco se c'è una cosa che ho capito da questa settimana è che è proprio questo cioè che quando gli attori fanno gli attori in quel momento sono esseri umani sono veri sono sono forse nascondono e mettono fuori la la personalità più profonda di quello che sono realmente allora nel frattempo che stavate vedendo un po di immagini di questi due ragazzi e delle loro performance teatrali mi hai aggiunta notizia che tu hai vinto anche un premio sì ho partecipato al concorso le dionise urbane c'è stata una prima edizione quest'anno a bisceglie in questo concorso era un concorso per monologhe per corti teatrali ho partecipato con un monologo di circa dieci minuti e sono riuscito ad aggiudicarmi sia il premio per la giuria tecnica che quello per la giuria delle arti il monologo scritto inedito e diretto da cecilia maggio si chiama la regressione felice ed è un po la sintesi di come nella vita a volte ci si ritrovi a dover regredire però essere contenti di farlo quindi fare un passo indietro con consapevolezza ok abbiamo finito queste quattro chiacchiere con analisa con simone con anna maria grazie per essere intervenuti